Bentornati sul canale, dalla Fara, da Fuzz e da Bracco. Oggi vi proponiamo un nuovo video per la playlist esperienze ricostruttive un po' diverso dal solito, anche perché è un video che è pensato per collegarsi a uno che gireremo questa primavera con la bella stagione. Ci vedrete infatti produrre dei piccoli oggetti di corredo, diciamo in lega di rame, perché bronzo forse non è proprio correttissimo, visto che usiamo molto materiale di recupero, quindi c'è anche dell'ottone dentro, eccetera, però con una tecnica completamente contemporanea, un forno elettrico. Questa primavera, durante la bella stagione, invece, faremo lo stesso tipo di lavorazione, ma utilizzando i mantici e il carbone di legna. Qualcosa da aggiungere? No, niente, adesso utilizzeremo dei materiali abbastanza moderni per arrivare a dei risultati su delle fibule, delle fibbie e degli elementi di corredo e quest'estate proveremo a rifare lo stesso esperimento, ma utilizzando materiale, comunque, storico o attestato. Oggi siamo alla fine di quattro giorni di pioggia intensissima, quindi l'idea era di fare entrambe le cose oggi, ma scavare in cortile per creare la zona di fuoco ci permetteva solo di trovare l'acqua. E quindi ci aggiorniamo a questa primavera sperando che vi diverta, se non altro, la visione di noi che rischiamo di farci male col forno elettrico. Mandi! Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!